Sì, sulla carta sembrava una partita facile ma non era scontato il risultato. Abbiamo fatto una grande prestazione e sono arrivati tre punti. Domenica ci aspetterà un impegno molto duro e ce la metteremo tutta come sempre. Hai giocato circa 40 minuti e poi hai avuto un piccolo risentimento per non rischiare ovviamente per il match di Domenica che vale una stagione. Sì, il mister ha una rosa ampia quindi ha fiducia su tutti i miei compagni quindi non ha avuto dubbi a fare subito il cambio. Domenica si va a uno stadio vero a Montoro con una tifosera importante quella della squadra di Mistralone. Facciamo anche un appello ai tifosi castellesi ad assiepare l'impianto Pertini di Montoro? Ma il paese ci sta seguendo sempre ovunque, qualsiasi sia il campo, qualsiasi sia la squadra che affrontiamo. Quindi anche qui non ci sono dubbi che avremo totale supporto. Adesso c'è una poltrona per tre perché per l'esplosiva Castelfranci, Montoro e Torella si giocano l'accesso diretto alla promozione. Qual è la promessa che può fare Ciampolillo ai tifosi del polisportivo? La promessa è sempre quella dell'inizio, cuore e maglia sudata per tutte le partite.